Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo contenti, sono particolarmente contento di questa richiesta di audizione. Il tema è molto importante. Il tema sulla vigilanza contributiva è molto importante perché riguarda sostanzialmente le pensioni del futuro, riguarda anche le pensioni del futuro. C'è quella parte di contributi, spesso evasa, per le quali i nostri ispettori, per legge, ai sensi della legge 88 e 89, che è la legge più importante dell'Istituto, noi siamo obbligati a recuperare l'evaso e i contributi non correttamente versati. È un aspetto molto delicato della vita dell'Istituto, che recentemente è stata modificata e sulla quale l'Istituto ha delle forti perplessità, dei forti dubbi sulla riforma recentemente intervenuta. Io vi racconto sostanzialmente oggi la parte innovativa e le criticità e le eventuali proposte, lasciando alla Commissione una dettagliata e illustrata relazione di 20 pagine che non leggerò, che riguarda lo stato dell'arte. Quello che invece leggerò e sulle quali mi appresterò a fare qualche commento sono le criticità e gli aspetti, come dire, e gli aspetti appunto più controversi. Allora, dunque, dicevamo, il Decreto Legislativo 149 del 2015 è intervenuto per modificare l'attività ispettiva in materia di lavoro, in materia di legislazione sociale e in materia contributiva, istituendo l'Agenzia Unica, l'Istituto Nazionale, l'Istituto Nazionale, l'Istituto Nazionale del Lavoro, allo scopo di integrare in un unico organismo i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, delle politiche sociali, dell'Inps, dell'Inel e evitando sovrapposizione. Un obiettivo nobile, se volete, perché da sempre avevamo avuto in passato la sensazione che le imprese fossero troppo controllate, ogni giorno avessero ispezioni di più enti. Questo è un obiettivo nobile, cioè a dire, non dobbiamo tartassare le imprese con 10.000 ispezioni al giorno. Quindi l'obiettivo è nobile. Tuttavia permettetemi fin da subito di dire che questo obiettivo nobilissimo si raggiunge semplicemente con il coordinamento di tre istituti, cioè Inps, Inel e Agenzia, anche in modo al netto della riforma intervenuta. Cioè non hai bisogno di un ispettorato per avere questo tipo di coordinamento. Quindi l'obiettivo è assolutamente condivisibile, lo condividiamo, anzi vi dico che lo facciamo questo coordinamento, perché lo riteniamo giusto non tartassare le imprese e non vessarle con più ispezioni al giorno, al mese o nello stesso periodo. Quindi l'obiettivo è giusto e ci impegniamo fin da subito, ma eravamo impegnati anche al netto della riforma su questo, e vi dico che sostanzialmente se questo è l'obiettivo è già raggiunto. Dopodiché, per questo obiettivo sono state introdotte anche altre cose che sostanzialmente lasciano molte perplessità. Innanzitutto, l'esaurimento del ruolo degli ispettori contributivi. Dovete sapere che esistono tre profili, tre figure di ispettori. L'ispettore contributivo, cioè quello dell'Istituto, dell'Inps, che fa vigilanza su quanto i lavoratori e le imprese versano di contributi. L'ispettore dell'INAIL, che fa ispezione sulla sicurezza del lavoro. E l'ispettore dell'INL, appunto, l'Istituto Nuovo Creato, che fa ispezione gius lavorista sulla regolarità dei contratti, sulla materia lavoristica e contrattuale. Sono tre campi molto diversi l'uno dall'altro. E io vi sfido, in quanto non è, a chiedere all'ispettore INL se riesce a fare ispezione contributiva. Vi sfido a chiedere all'ispettore INL se sa fare ispezione assicurativa e contributiva. E vi sfido a chiedere all'ispettore INPS se riesce a fare ispezione assicurativa propria dell'INAIL e ispezione gius lavorista propria dell'INL. Quindi tre campi separati. Con modesto e sommesso parere vi dico anche che la materia contributiva è la più pesante, come immaginate. Cioè quella che fa sì che le pensioni nel futuro siano pagate. Quella che fa sì che, appunto, le aziende e le imprese versino regolarmente i contributi. La più pesante in termini di volume, in termini di risorse. Cioè a dire anche che ai contributi, come sapete, inoltre sono legate prestazioni di oggi. NASPI, Cassa Integrazione, assegna al nucleo familiare. Quindi se un'impresa non è in regola con i contributi, i lavoratori non ottengono queste prestazioni. Quindi anche oggi, non solo domani. Vi ho citato tre esempi, NASPI, Cassa Integrazione e assegna al nucleo familiare, che gestiscono tre direzioni diverse dell'istituto. L'istituto, come sapete, per ogni prodotto ha una direzione. Cioè a dire, di nuovo, che l'ispettore IMSS, per fare bene il suo lavoro, deve conoscere la NASPI, deve conoscere le casse integrazioni, deve conoscere le pensioni, deve collaborare con i dati di queste tre direzioni nell'istituto in cardinate. La formazione su queste materie è specifica, è continua, ed è essenzialmente in collegamento con i direttori delle prestazioni, NASPI, Cassa Integrazione e assegna al nucleo familiare. Cioè a dire, ancora, se stacchiamo l'ispettore contributivo, da dove i contributi danno vita a queste prestazioni, creiamo un vuoto di competenze, che potrebbe essere raggiunto, perché tutto si può raggiungere con la formazione, ma fra dieci anni. Cioè noi abbiamo un problema oggi. Abbiamo un problema oggi nel riscuotere correttamente i contributi. I dati sulla discussione, in effetti, non sono molto incoraggianti, purtroppo, da quando è stata introdotta la riforma 149 del 2015. Vi porto dei dati che lascerò ovviamente a memoria, che riguardano sostanzialmente una tabella molto semplice, visibile a occhio nudo, che evidenzia delle performance in peggioramento. Nel 2012 le aziende ispezionate erano 80.960. Nel 2019 sono 14.860. 80.000, oggi 14.000. Evito di dire le cifre dopo le migliaia. Nel 2012 le aziende irregolari erano 59.000, oggi sono 12.000. Ovviamente non è che sono 12.000, sono trovate 12.000 soltanto. I numeri di lavoratori irregolari nel 2012 erano 78.000, oggi sono trovati irregolari 25.000. I numeri di lavoratori totalmente in nero, trovati irregolari nel 2012, erano 44.000, oggi sono soltanto 9.000. Saremmo contenti se questi numeri evidenziassero una situazione di riduzione del lavoro nero, però sapete bene che non abbiamo ridotto il lavoro nero. Il recupero contributi evasi nel 2012 era di 1.124.000.000, oggi è 873.000.000, ecco questo è il dato più allarmante. Che vuol dire? Vuol dire che c'è stata una riduzione sulla quale hanno agito a mio parere due fenomeni. Uno, la riduzione degli ispettori di vigilanza contributiva dell'Istituto. Noi eravamo, Sandra aiutami perché sto leggendo a braccia e non trovo i dati, eravamo circa 1180 prima della riforma, nel 2012, oggi siamo 1080, dico bene? 1083. Quindi abbiamo ridotto di quasi 150-160 numeri di ispettori in pochi anni, perché? Perché ovviamente 150-160 ispettori sono andati in pensione e noi a causa del ruolo di esaurimento non siamo riusciti a sostituirli. Abbiamo assunto di recente 3.500 persone, ma non abbiamo potuto assumere un ispettore perché abbiamo il ruolo ad esaurimento. Assumeremo a novembre, con l'autorizzazione della funzione pubblica già ottenuta, 1.869 unità, ma non possiamo assumere un ispettore perché abbiamo il ruolo ad esaurimento. Io vi chiedo, ed è questa la terza volta che in questa commissione chiedo e faccio questo appello, so che questa richiesta non trova il consenso di tutti, ma trova il consenso dei dati. Vi chiedo urgentemente l'abrogazione del ruolo ad esaurimento degli ispettori di vigilanza dell'Inps. È un bene per il Paese, è un bene per la vigilanza contributiva, è un bene per la lotta all'evasione. Mi fermo qui e lascio, perché ho detto la cosa principale, e lascio in memoria dati e relazioni che illustra la gravità della situazione. Grazie Presidente, Grazie Presidente Pasquale Tridico dell'Inps e Dottoressa Petrotta per il contributo. Diciamo, io sono molto coinvolto da questa questione. Lo ero, pensate bene, nel 2014, quando si discuteva la legge delega al lavoro, quindi si incominciava a delineare la traccia di quello che poi sarebbe diventato il decreto 159 del 2015. Lui ero quando ero all'opposizione, cioè contrario a questo tipo di indirizzo. Lo sono stato da sottosegretario al governo, al ministero del lavoro, come ben sapete, e lo sono oggi che sono tuttora in maggioranza. Quindi sono anche un po' arrabbiato, diciamolo, perché abbiamo udito i singoli colpi ispettivi, abbiamo visto i dati, abbiamo visto qual è lo stato dell'arte, comprendiamo bene qual è l'importanza e il ruolo degli ispettori, non si può che andare in questa direzione di cui stiamo parlando. Per cui io, da parte mia, ci sarà sicuramente tutto il supporto e anche la presentazione di emendamenti nelle sedi opportune. Qualche settimana fa abbiamo avuto in audizione l'INL, l'Ispettorato nazionale del lavoro, e si è parlato di miglioramenti dell'attività ispettiva grazie a dei progressi di affinamento dell'attività di intelligence. Allora, io mi domando, ma l'INL ha gli strumenti per lavorare sull'intelligence e farlo in maniera efficace? O forse questo deriva dalla storicità, dal pregresso, dal know-how, che i singoli corpi ispettivi che hanno un'esperienza più che decennale e hanno maturato appunto queste conoscenze di intelligence. E forse, se oggi riusciamo a tenere botte, diciamola così, è forse grazie al fatto che si è dovuto un po' declinare l'attenzione verso grossi soggetti, grosse realtà, diminuendo magari sensibilmente il numero delle aziende e dei soggetti ispezionati. Forse è stato quello, a causa ovviamente, della riduzione del numero di ispettori e delle risorse ovviamente. Quindi, quello che mi sento di dire è che oggi non troviamo, come dire, non vediamo l'efficacia di un coordinamento, sebbene nessuno lo metta propriamente in discussione. Però quello che si chiede in questa fase, in questo momento, è un qualcosa di basilare. Il supermento, l'abrogazione, il ruolo, l'esaurimento. Soprattutto quando parliamo della mole di evaso contributivo. Noi stiamo parlando di decine e decine di miliardi di euro che pesano in maniera molto importante sul bilancio dello Stato e poi per garantire i contributi ai lavoratori e in un sistema a ripartizione come sistema previdenziale italiano anche le pensioni. E questo non è poco. Io in questo senso mi sento di ringraziare tutti gli ispettori del lavoro che quotidianamente si impegnano in questo senso e vorrei fare, approfittare la presenza del presidente Pasquale Tridico per fare una domanda. Innanzitutto, siccome ancora oggi, nonostante sono passati dalla legge delega cinque anni, sento parlare del problema della duplicazione dei controlli. Ma a me risulta che già cinque anni fa, quando si parlava di duplicazione dei controlli, era forse lo 0, qualcosa per cento, qualcosa che proprio è nullo. Tra l'altro stiamo parlando di controlli diversi, quindi di che cosa stiamo parlando? Mi domando. Però se abbiamo dei numeri precisi sarebbe bello averli, insomma, a verbale in questa sede. Poi vorrei capire un'altra cosa. L'evaso contributivo ammonta cifre molto importanti. Quello che mi domando, noi legislatori, cosa possiamo fare per ridurre il gap tra l'accertato e quello che si riesce effettivamente a riscuotere? Perché secondo me si possono produrre delle norme che aiutino a recuperare molti, ma molte più risorse. E quindi volevo capire anche da voi che cosa ci potete suggerire in questa commissione. E ringrazio nuovamente. Grazie collega. Prego, Costanzo. Grazie Presidente. Ringrazio il Presidente Tridico e la Dottoressa Petrotta. Io ricordo quasi un anno fa, circa, quando il Presidente Tridico era venuto appunto in commissione lavoro proprio per informarci, per esplicare, diciamo, le linee programmatiche di questo istituto. E ovviamente ci aveva delineato un po' qual era la linea programmatica che si voleva percorrere con questa Presidenza. In particolare ricordo anche che tra gli obiettivi era quello di inserirlo come polo strategico nazionale del Paese. ricordo anche che era stato delineato anche il numero di prestazioni che l'Inps fa all'interno di tutta la sua attività, sia tra imprese e sia con gli utenti. Certo che sentire oggi questi dati sicuramente sono poco confortanti e fa male perché a distanza appunto di più di un anno abbiamo visto che nonostante i concorsi che ci siano stati anche all'interno dell'Innele e all'interno dell'Inps non si è riusciti a centrare l'obiettivo che infatti era quello già, tra l'altro, come ha detto lei, il Presidente Tridico, già suggerito dell'abrogazione, insomma, del ruolo ad esaurimento. Vede, Presidente, noi abbiamo già fatto diverse audizioni perché questa indagine conoscitiva sta praticamente volgendo al termine e quindi abbiamo sentito anche molti esperti nella materia e alcuni appunto hanno continuato a sostenere la bontà di questa riorganizzazione volta alla razionalizzazione. Ci sono state alcune tesi che dicevano che la soluzione era proprio nella formazione, infatti so che all'interno dell'Innel si è cercato in qualche maniera di implementare la formazione di questi ispettori come se fosse veramente l'origine di tutte le cause, l'epifenomeno di tutto il problema. In realtà dai dati che si vedono oggi purtroppo per quanto possa esserci stata la formazione all'interno dell'Innel purtroppo dal recupero di contributi evasi, dal confronto che ci può essere stato rispetto alle annualità precedenti vediamo dei risultati sicuramente poco confortanti. Non credo che l'obiettivo sia quello di creare un istituto sanzionatorio repressivo perché non è quello l'obiettivo e non credo che sia neanche condivisibile da questa maggioranza di governo. Certo è che potrebbe, e questo chiedo a lei, se l'istituto potesse fare da guida nella riorganizzazione senza però ledere l'autonomia degli altri istituti perché è giusto appunto che ci sia rispetto delle motivazioni che hanno portato alla nascita di questi istituti però è anche vero che bisogna garantire la certezza del controllo potenziale perché altrimenti creiamo una discriminazione tra potenziali soggetti e aziende che possono essere controllate e altre che per n motivi, per n ragioni purtroppo non vengono controllate e quindi possono anche eventualmente ledere le varie regolamentazioni e le varie normative. Grazie. A tre piedi, prego. Grazie Presidente, solo per ringraziare il Presidente Tridico e avere la connessione tra sicurezza del lavoro e sostanzialmente la sicurezza di superare questo ruolo questo ruolo di esaurimento perché non è accettabile in una situazione drammatica come quella che viviamo avere un corpo ispettivo diciamo non nel pieno delle sue forze. Quindi chiederei al Presidente Tridico con quanta urgenza abbiamo bisogno di superare questa norma? Con quanta urgenza noi abbiamo io il Presidente lo sa arrivo dai cantieri l'Onorevole Cantone conosce anche la mia storia personale e sa che abbiamo un obiettivo in questa commissione quella anche di tutelare un pochino di più il mondo del lavoro e soprattutto la sicurezza sul lavoro. Che urgenza abbiamo Presidente? Grazie. Cominarti. Allora io propongo qui una cosa molto semplice un coordinamento anche più forte se volete dell'Istituto Nazionale del Lavoro il coordinamento deve essere unico non c'è dubbio proprio per l'obiettivo nobile che vi dicevo cioè evitare le duplicazioni a migliorare i collegamenti come dice l'Onorevole Tripiedi tra i diversi istituti e quindi le diverse possibilità di irregolarità quindi il coordinamento è legittimo e deve essere mantenuto secondo me deve essere ottenuto allo stesso tempo l'abrogazione del ruolo ausolimento quindi la facoltà di ogni istituto di avere i propri ispettori vi do un numero per rispondere esattamente alle domande poste nel 2012 il corpo era composto da 1.510 ispettori oggi il corpo è composto da 1.083 ispettori prima evidentemente avevo fatto uno sbaglio nel dire con precisione i dati quindi quasi 500 ispettori in meno un terzo degli ispettori in meno un terzo degli ispettori in meno certo direte voi nel frattempo abbiamo assunto ispettori INL giusto ma perdonatemi di nuovo con tanta modestia e senza arroganza quanta quanta inesperienza i nuovi ispettori INL oggi scontano rispetto all'esperienza maturata in 20-30 anni di servizio presso l'Istituto e in tutta la conoscenza nell'osmosi che si crea tra le diverse direzioni cassa integrazione NASPI ma anche oggi i redditi di cittadinanza che devono che sono gestiti dall'Istituto ecco quanta in esperienza oggi questi nuovi ispettori assunti neoassunti scontano rispetto agli ispettori incardinati e continuamente formati nell'Istituto ridotti di un terzo per rispondere alla sua domanda onorevole di quanto è urgente è urgentissimo è urgentissimo perché noi i dati che l'ho dato oggi su questa tabellina sono dati ufficiali che noi diamo al Ministero del Lavoro e diamo al MEF sull'evaso e ci dicono che le nostre aziende ispezionate il nostro evaso recuperato è ridotto tremendamente ve li ho dati prima i dati quindi in un paese in cui sappiamo l'evasione essere così alta questi dati se l'intenzione del Governo è recuperare l'evasione questi dati devono essere invertiti quindi è necessario visto che tra l'altro all'Istituto per fortuna e ringrazio il Governo e il Parlamento per fortuna è stata data capacità assunzionale negli ultimi mesi ripeto abbiamo assunto 3.500 unità a luglio assumeremo con concorso già autorizzato 1.869 unità in virtù poi di tutte le funzioni che l'Istituto dall'Appe Sociale al bonus per bene fino al reddito cittadinanza sono state date negli ultimi anni giustamente il legislatore ha detto vi abbiamo dato più più da fare vi diamo anche più risorse e quindi vi ringraziamo per questo ma non possiamo assumere ispettori quindi questi 500 ispettori che abbiamo ridotto non li possiamo assumere a meno che il Parlamento e il Governo non si decidano ad abrogare il ruolo di eserimento così le risorse che noi abbiamo possono essere utilizzate in facoltà assunzionali non solo per profili amministrativi per medici per informatici per come sapete l'Istituto ha dall'informatico fino al medico tante professioni tra cui lo specifico ruolo dell'Ispettorato di Vigilanza e Contributiva è urgentissimo non le vuole tripiedi è urgentissimo cosa si può fare e chiudo e passo la parola alla dottoressa Petotto oltre al ruolo ad eserimento io ho apprezzato moltissimo anche perché l'Istituto ha dato un grande contributo nell'ultima manovra nella legge di bilancio la parte che riguarda chiedo scusa non nella legge di bilancio nel DL fiscale la parte che riguarda le compensazioni le compensazioni indebite l'Istituto subisce ogni anno qualche miliardo di evasione contributiva a causa di indebite e compensazioni conoscete il fenomeno noi lo vogliamo contrastare nel DL bilancio c'è una nostra specifica proposta che è diventata legge anzi immagino che oggi pomeriggio si chiuderà il DL fiscale e probabilmente dopo domani non lo so insomma si chiuderà spero al più presto si chiuderà fra qualche giorno il DL fiscale c'è una norma che riguarda le compensazioni è un primo passo non è esattamente quello che volevamo cioè quello che volevamo è essenzialmente un blocco exante delle compensazioni che noi valutiamo essere a rischio questo purtroppo non c'è dato come dire questa proposta non è esattamente stata condivisa quindi non è passata tuttavia c'è una collaborazione tra agenzia INAIL e IMS sugli indici di rischio elevato questo sì e questa collaborazione fa sì che queste false compensazioni possono essere più facilmente catturate ma noi le dobbiamo evitare le false compensazioni più che catturare dopo le dobbiamo evitare exante quindi cosa si può fare non le vuole Cominardi dobbiamo evitare che le false compensazioni vadano in porto così che noi poi non le dobbiamo rincorrere anche perché quando le rincorriamo facciamo fatica a catturarle la dottoressa Petrotta grazie grazie buongiorno a tutti onorevoli volevo solo aggiungere una cosa a proposito dell'urgenza della soppressione del ruolo del sorrimento la classe ispettiva ha un'età media abbastanza alta quindi quella perdita quella riduzione di risorse potrebbe essere ancora più importante nei prossimi anni e a proposito della formazione che qualcuno per rispondere all'onorevole che qualcuno ha visto come una soluzione certamente è una possibile soluzione però ricordo soltanto che tra gli anni tra il 2017 e il 2018 è stato somministrato un corso di formazione a 488 ispettori del lavoro in materia previdenziale si è trattato di un corso di formazione di 4 settimane teorico pratico e tuttavia ancora oggi nessuno di quegli ispettori del lavoro è in condizione di fare vigilanza previdenziale in totale autonomia il che significa che una formazione di questo genere probabilmente richiede tempi molto lunghi cosa diversa è come ha detto giustamente il presidente essere crescere professionalmente all'interno di un istituto che fa proprio previdenza e quindi conosce bene i meccanismi le procedure e soprattutto la normativa invece per rispondere all'onorevole Cominardi a proposito della duplicazione dei controlli è vero in passato c'era la duplicazione dei controlli ma non sono in grado di stabilire in che percentuale tuttavia il legislatore del 2004 col decreto legislativo 124 aveva già previsto un coordinamento affidato al ministero del lavoro quindi agli ispettori del lavoro che però evidentemente non ha funzionato se poi il tutto è sfociato nel decreto legislativo 149 ma in realtà bastava una sola cosa ed è una cosa che abbiamo già realizzato istituire una banca dati delle ispezioni in modo da mettere a disposizione reciprocamente IMSI INAI l'agenzia del lavoro o comunque ispettori del lavoro l'elenco delle aziende ispezionate o in corso di ispezione per evitare che altri corpi ispettivi possano replicare l'ispezione era una cosa sembra l'uovo di colombo era facile realizzarla e l'abbiamo realizzata questo perché per dire che comunque l'intendimento nobile del legislatore del 2015 è già stato realizzato a proposito invece della domanda come possiamo aumentare il riscosso rispetto all'accertato perché è vero quei dati che noi snoccioliamo sono dati che riguardano l'accertato quindi contributi che vengono accertati in quanto evasi ma non è detto che poi alla fine vengano riscossi e da questo punto di vista mi viene in mente l'enorme contenzioso che si forma sui verbali ispettivi evidentemente questo contenzioso dura troppo a lungo e quindi da questo punto di vista noi non possiamo sopperire diciamo ai ritardi della magistratura penso di avere poi il presidente aveva già detto tutto quindi finisco soltanto dicendo che noi abbiamo come dire abbiamo già preparato una proposta normativa chirurgica di abrogazione del ruolo dell'oserimento e di mantenimento del coordinamento dell'INL quindi se la commissione lo richiede noi la possiamo reinoltrare insieme alla relazione che vi inviamo oggi stesso perfetto ringraziamo allora il presidente tritico e la dottoressa dichiaro conclusa questa audizione inviamola anche la proposta normativa ok